amici sportivi amici fantallenatori buongiorno bentrovati dal vostro vetrano del fantacalcio oggi un video un po diverso dal solito vado un po in tentazione con db cooper tanti di voi si staranno chiedendo chi è db cooper è un personaggio famosissimo per aver dirottato un boeing 727 nel 1971 dal quale si lanciò in volo dopo aver ricevuto un riscatto di un milione e 300 mila dollari poi sparendone nulla dan cooper fu lo pseudonimo o monimo personaggio di storie che vanno dallo spionaggio alla fantascienza e rimane l'unico caso irrisolto nella storia dell'avazione usa e nella cultura di massa è riconosciuto un po come il paradino quello che ha fregato il sistema senza fare del male a nessuno e quindi per questo motivo mi sono domandato chi può essere il nostro db cooper al fantacalcio cioè chi è quel giocatore per il quale possiamo fare un grande affare senza fare del male a nessuno di fatto avendo tutto sotto controllo le caratteristiche di db cooper quali sono legate al fantacalcio intanto è stato un evento inaspettato all'epoca non si parlava appunto di rottamenti sui aerei attenzione mediatica fortissima quando è arrivato appunto il caso è stato un caso irrisolto e c'è stata furbizia e scaltrezza da parte dello stesso cooper per il fantacalcio il 2022 2023 ci possiamo abbinare dei sinonimi di fianco quindi di fianco all'evento inaspettato può essere una plus valenza netta a fine stagione rispetto al 21 22 l'anno passato un giocatore che appunto è iper conosciuto quindi sicuramente è un giocatore quando vi farò il nome che conoscerete tutti come ci rimarranno i nostri avversari può essere il caso irrisolto e poi la furbizia e la scaltrezza sta nell'aver fatto un'analisi approfondita e anche un'idea futuribile per quest'anno un po' in anticipo rispetto ai nostri avversari c'è un giocatore che ha potenzialmente fortemente influenzato questa mia aspettativa vi leggo le statistiche stagione scorsa ha fatto 24 presenze 10 gol e 5 assist due stagioni fa ha fatto 37 presenze 15 gol e 10 assist stagione 19 20 ha fatto 28 presenze 18 gol e 7 assist stagione 18 19 ha fatto 37 presenze 23 gol e 7 assist e la stagione 17 18 ha fatto 31 presenze 11 gol e 4 assist ha partecipato al bonus mediamente la quinta stagione fa ha fatto 48 per cento di partecipazione al bonus poi 81 per cento poi 89 per cento poi 67 per cento e l'ultima stagione 62 per cento quindi diciamo così l'ultima stagione in forte calo complice anche qualche infortunio ma avete visto che nelle stagioni precedenti ha avuto un grande impatto per quanto riguarda il fantacalcio la percentuale di pagamento delle aste dell'anno scorso stagione 21 22 è stata del 20 21 per cento quindi un giocatore che avete capito essere abbastanza importante a livello di sentimento popolare il costo per bonus però dello scorso anno rispetto a quanto ha fatto è stato di 0 57 questa è una nota dolente negativa per il motivo per il quale vado a parlarvi di questo giocatore sapete che il costo per bonus è equiparato rispetto a quanto ha prodotto o quanto si presume possa fare durante l'anno avendo fatto 10 gol e 5 assist ha portato al nostro fantacalcio totalmente complessivamente 35 punti bonus che equiparati rispetto al prezzo d'acquisto danno un costo per bonus molto elevato l'ideale sarebbe di avere un costo per bonus di 0 25 0 30 0 40 limite massimo di stress oltre è un costo per bonus troppo elevato in questo caso questo giocatore ha fatto 0 57 motivo per il quale si può pensare che l'anno prossimo in asta vada un prezzo più basso ho proiettato per questo giocatore per la stagione in corso una proiezione di 31 presenze circa proiettando 15 gol e 7 assist e quindi proiettiamo che se va a un costo per bonus di 0 15 0 25 il prezzo del 13 per cento un prezzo ottimale un grande affare sotto il 17 per cento è un prezzo ancora molto buono per il fantacalcio un prezzo diciamo così da db cooper oltre chiaramente è un prezzo troppo elevato è un giocatore che abbiamo detto è iper conosciuto e il suo nome è duvan zapata ecco adesso avete le idee più chiare quindi la sintesi è che se andiamo a comprarci un giocatore come zapata al di sotto del 15 per cento a mio avviso in proiezione è un bel affare sotto il 13 è come dire un veramente un grande furto fino al 17 per cento potrebbe essere un costo sostenibile oltre si parla di un fantacalcio classico normale però diciamo sotto queste soglie sotto il 15 per cento diventa un prezzo di grande affare quindi se qualcuno di voi ha qualche dubbio su zapata lo compri soprattutto se c'è l'occasione quindi al 13 14 per cento anche 15 per cento un prezzo di grande affare ci viene il soccorso un'altra statistica molto interessante zapata quando è stato convocato ha giocato per l'83 per cento delle volte titolare quindi per gasperini è un grande è un grande giocatore sostituito il 35 per cento delle volte è entrato il 15 per cento quindi di fatto gasperini se è convocato lo fa giocare praticamente sempre questo motivo dico attenzione a zappata troppo sottovalutato è un personaggio come db cooper che potrebbe farvi svoltare il fantacalcio a presto ragazzi buona giornata e buon fantacalcio un abbraccio